Il gol di Vittorio Parigini Che occasione per il Brescia Galano Palla per Maniera con il destro La parata di Minelli in calcio d'angolo Galano dalla bandierina Palla che rientra Maniero E poi ancora Moras La rovesciata tentato da Salzano Vittorio ad uscire Minelli con i pugni Non granché la porta rimane vuota E Moras fiora il gol del 2 a 0 Colì è bravo Riesce ad aprire per Bonassoli Con il sinistro Michai Grande parata Parigini Sfugge sulla sinistra Palla nel mezzo Macek Galano Sinistro E palla alta Tre contro tre Parigini Maniero arriva anche Galano Eccolo servito Galano Palla sul sinistro Galano E' il gol del 2 a 0 E' il gol del 2 a 0 Il destro La palla è fuori E qui arriva anche il pischio finale Da parte di Gersini Il Bari Vince 2 a 0 Grazie per la赤 Grazie a tutti